Salve popolo, noi siamo Reda Polsi e questo è il nostro canale Ciao ragazzi, siamo tornati con un nuovo video Avete detto del titolo che video sarà? Esatto La scorsa puntata di questa rubrica ha avuto un macello di un boato di successo Mi piace vedere che faccio schifo E quindi siccome a me piace fare music, scusate se sono inattiva ma è stato un periodo un po' confusionale della mia vita Ma ora si riprende Chiara, mi chiamo Chiara, ciao a tutti Claudia oggi farà vedere a tutti come in realtà sia migliorata nel fare music Cioè perché mi sono esercitata ogni giorno Iniziamo Effetto bellezza, oggi siamo tutti più belli Ti vediamolo Certo Vai A parte che sto coso che è una lumaga mi non fa stidio Che ci stai due ore a farlo Vediamo che cosa ha combinato Claudia Wow raga Raga andiamo a peggiorare Andiamo Mi do le approvazioni Basta vediamo Dai facile lo vuoi fare Cos'è che fa Giuscon Giuscione Lento E che cazzo vuoi fare? Niente Vediamo com'è venuto Ma ragazzi La faccia della musica E l'immagine All my friends are here to stick it slow Wait for them to ask you who you know Diciamo Diciamo potevo farlo meglio però Vabbè dai Un po' lo slow l'ho fatto di schifo Però Lento Basta Diciamo Wait for them All my friends are here to stick it slow Wait for them to ask you who you know Please don't make any side of me You love me Ma cazzo vuoi fare il video Poi lo tieni così Lo devi tenere dritto Ma vero Allora Sto coso è così grande Come faccio? Ti fai una testa Vediamo Ma chi ce la fa? Io vorrei sapere chi ha inventato musicali Uno che non sapeva che cavolo fare Cioè come ti è venuta l'idea di creare questo coso? Breath 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 Ora questo l'ho indovinato Questo pure E questo pure Vai andiamo 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 am Vai L'ultimo regà 1 2 3 4 5 6 7 8 am 1 2 3 4 5 6 7 6 6 7 8 am 9 am 9 am 8 am 9 am 9 am Bene ragazzi Il video è finito Claudia Anzi È finito Questo video Apprezzate Diciamo che Claudia Andate Dico il meglio Il primo video E ditemi se non sono migliorata Scusate Niente ragazzi Grazie per aver visto questo video Noi ci vediamo al prossimo Ciao Noi ci vediamo al prossimo 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 Grazie a tutti.